A Tosi è lecito cambiare idea, ma a me non piacciono quelli che cambiano casacca durante la partita. Se uno comincia a giocare in quella squadra, mi piace se finisce la partita in quella squadra. Dice che ho snaturato la Lega, la risposta siete voi. Sono contento di aver snaturato la Lega e viva la Lega snaturata. E se pensa di insultarmi dicendomi che sono un lepenista, io ogni volta che vado in televisione ormai mi autodenuncio quando c'è uno del PD. Lo ammetto, sono razzista, fascista, nazista, xenofobo, omofobo, islamofobo e tutto quello che il buon Dio può. Quindi lepenista. La Lepen, con cui siamo alleati in Francia e che spero possa diventare la prossima presidente della Repubblica Francese alle elezioni del 2017, dice prima i francesi, dice prima i francesi e io dico prima gli Umbri, prima gli italiani e si avanza poi per tutti gli altri. Solo si avanza. Grazie.